Alleluia! Siamo a comodarci, come ha detto il pastore Francesco questa mattina, voglio divertirmi. Voglio divertirmi in questa sera, voglio fare casino, perché quello che ho imparato in questi anni con il Signore è che l'unzione dello Spirito Santo non è un'emozione, la presenza di Dio in un luogo non è un'emozione che la puoi sentire con i tuoi cinque sensi ed è per questo che voglio divertirmi in questa sera, perché anche se siamo stanchi, anche se abbiamo avuto una settimana pesante, anche se hai passato una giornata terrificante, non cambia il fatto che l'unzione di Dio è qui ed è sopra di te. Ci vogliamo divertire un po' in questa sera, non cambia il fatto che la potenza di Dio opera attraverso l'unzione dello Spirito Santo che è in questo luogo qui e non mi interessa niente se io me lo sento o non me lo sento in questa sera, se ho mangiato tanto, se ho riposato poco, so una cosa, che l'unzione di Dio è qui e si muoverà in mezzo a noi. Quindi vogliamo divertirci un po', alleluia, Dio è qui, anche se non senti i brividi, Dio è qui, anche se non senti il vento, Dio è qui, Dio è ovunque e ho imparato questo nella vita, che io non devo essere toccato nei sentimenti per sapere che Dio è con me. Non mi interessa niente l'avversario che viene contro di me, quello che si aspetta da me è un bel sorriso in faccia dimostrando che Dio è con me. E quello che voglio dirvi è che questa è fede, la fede non è un senso, il regno di Dio non si manifesta attraverso i cinque sensi, i tuoi cinque sensi servono per comunicare in questo mondo, le emozioni, si sta bene, sì, quando non si canta, ma non cambia il fatto che la potenza di Dio è qui, anche quando c'è una nota stonata, anche quando non c'è il miglior canto della settimana, anche quando tu non te lo senti. Non cambia il fatto che tu puoi toccare la potenza di Dio con la tua mano, con la tua vita, perché lo credi. E tu non vieni smosso, se hai la fede, la fede di Dio. Quindi voglio divertirmi un po' in questa sera, perché sapete, non mi sentivo niente fino a pochi minuti fa. Mi sembravo un pazzo nella mia camera, cinquemila fogli, però io credevo che Dio è con me, che Dio vuole fare cose straordinarie per te e con te. Quindi quanti di voi qui credono che qualcosa di straordinario Dio farà sulla tua vita, sulla tua casa, in questo luogo? E voglio dirti proprio questo, non te lo devi sentire. Tanti camminano, mi sono sentito, ma tu non cammini per visione, tu cammini per fede. La fede a volte va contro i cinque sensi. E devo iniziare ancora, il messaggio è qui. Ma voglio mettere questa base, perché faremo un viaggio questa sera, come disse il pastore, in questa mattina faremo un viaggio. Faremo un viaggio. E voglio mettere un po' le basi proprio su questo, perché aspettati che Dio fa qualcosa sulla tua vita. Non in base a come ti sei comportato in questa settimana. Lo farà perché ti ama, perché vuole toccare la tua vita, vuole toccare quello che tu fai. Dio non ti lascerà. Non ti abbandonerà. Quando io passo dei periodi brutti nel mio lavoro, a volte si vede anche che mi trascino alla presenza di Dio, obbligo il mio corpo a stare qui. È la mia fede che dice a Francesco dove deve fare, quello che deve fare, quello che deve dire. Capite? Trascinatevi qui quando le cose vanno male. anche i vostri figli, trascinatele qui. Perché è la fede quello che decide, quello che deve dire e fare nella tua vita. Ok? Noi qui siamo gente che è matura, che è pronta per entrare in un nuovo livello di spiritualità perché questa nazione ne ha bisogno e tu sei la persona che Dio ha scelto per questa generazione. Ha scelto proprio per questo tempo per portare la potenza di Dio qui sulla terra attraverso la tua vita, attraverso qualunque cosa tu stai facendo, attraverso il tuo lavoro, la tua famiglia, quello che tu stai facendo. Dio vuole portare la potenza di Dio attraverso di te e mettetelo bene in testa che tu devi credere. Devi credere. Ok? Voglio raccontarvi la storia. Ho temuto che il pastore Andrea mi rubasse la predica veramente in questa questa mattina perché io parlerò dei Filistei e parlerò di Davide. E ho dovuto cambiare dei versi perché li ha citati lui. Ok? Io dicevo grazie Signore. E io ieri pensavo ai tre punti, no? Ai tre punti. Ma è buono ed è buono e ce l'ho. Però volevo portare una storia, no? E quando il pastore ha detto questo stamattina voglio portarvi in una storia, mi sono rilassato. Wow! Alleluia. Ok. voglio raccontarvi di questo popolo Israele, il popolo di Dio che Dio ha scelto nei secoli per rappresentarlo, per portare la sua gloria qui sulla Terra. E vedete, Dio non può fare niente sulla Terra se non ha delle persone. Dio nell'universo ha scelto un luogo, su tanti pianeti ha scelto la Terra, e sulla Terra ha scelto una nazione e su una nazione ha scelto delle persone e su quelle persone ha selezionato la sua Chiesa che sei tu. Dio vuole fare qualcosa di straordinario con te, Dio vuole segnare la storia con te e così ha fatto nei secoli con Israele. Israele stava passando un momento molto difficile quando Re Saul stava regnando e erano ben 42 anni che Israele era in battaglia con i Filistei. Ben 42 anni! la Bibbia dice che l'esercito dei Filistei e lo possiamo leggere nel primo passaggio della scrittura che si trova in primo Samuele capitolo 13 Israele i Filistei si radurarono per combattere contro Israele avevano 30.000 carri 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del male sarirono dunque si accamparono a Mikmas a oriente di Betan gli israeliti vedendoli ridotti al partito perché il popolo era messo alle strette si nascondeva nelle caverne nelle macchie tra le rocce nelle buche e nelle cisterne ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare dal paese di Gad e di Galad quanto a Saul egli era ancora Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava questa era la situazione c'erano migliaia e migliaia di carri di guerrieri pronti a sterminare il popolo di Dio e la Bibbia dice per ben 42 anni c'era il popolo dei filistei su una collina e c'erano il popolo di Israele sull'altra collina ed erano davanti l'uno all'altro e la Bibbia dice che per settimane c'era un uomo di nome Golia che metteva il terrore tra il popolo di Dio il terrore stiamo parlando stiamo parlando del popolo di Dio in cui Dio aveva scelto di manifestare la gloria di Dio e in questi 42 anni non è uscita neanche una persona con il coraggio con la fede perché la fede è la dimostrazione di cose che non si vedono e anche se tu sei il popolo di Dio ma non hai fede questo mondo ti terrorizzerà questo mondo ti farà nascondere se non hai la fede la certezza di cose che non si vedono la fede che non si basa sulle emozioni sui sensi tu devi avere la fede che Dio è veramente con te in questi tempi più che mai devi essere convinto che Dio è con te Dio è dalla tua parte perché questo mondo fa tremare questo mondo se tu non hai fede ti metterà giù per terra ti umilierà ti toglierà ogni cosa il terrore verrà su di te sulla tua casa se non hai la fede che respinge ogni arma fabbricata contro di te e in quel tempo non c'era nessuno e c'era questo uomo gigante ho trovato anche una bella immagine la scrittura parla di questo gigante nel capitolo 17 di primo Samuele il versetto 4 al 7 dall'accampamento dei filistei uscì un campione di nome Golia di Gat alto 6 cubiti e un palmo circa 3 metri aveva in testa un elmo di bronzo indossava una corazza a sguame che pesava 5.000 sicli di bronzo circa 50 chili portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro alle spalle l'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore la punta della lancia pesava 600 cicli di feri circa 6 chili e colui che portava il suo scudo lo precedeva e la scienza e gli arcologi hanno anche dimostrato questo che ci sono veramente stati questi giganti e l'ammagine dopo la possiamo vedere che veramente c'erano questi giganti e io penso che questa razza è stata sterminata tutta per paura ma non nello spirito nello spirito Cristo li ha vinti per te Cristo li ha sconfitti per te ma quell'immagine del gigante viene proiettata su di te come a un'arma di paura a un'arma che ti paralizza perché la paura questo fa ti paralizza chi ti credi di essere che cosa vorresti fare tu e ogni giorno tu vieni bombardato nella tua mente per essere paralizzato per essere tenuto giù come a tutti quanti perché lui ti sossurra nella tua mente che tu non sei veramente un uomo straordinario questo Golia che è proiettato nella mente nei tuoi figli che gli sussurra che sono soli sono abbandonati che non hanno speranza se tu non hai fede tu sarai paralizzato nella tua vita non metterei mai il tuo piede fuori dalla barca perché avrai paura delle onde la paura possedeva questo popolo nel sentire parlare questo gigante che ogni giorno usciva e sfidava l'esercito di Dio ogni giorno la Bibbia dice in questo capitolo che veniva a insultare i figli di Dio e lui diceva datemi una persona la mia domanda è c'è qui quella persona c'è qui quella persona si o no datemi una persona e io mi batterò con quella persona chiunque vincerà sarà sottomesso ma noi sappiamo che quella persona è Gesù Gesù si è fatto avanti per te Gesù non si è tirato indietro e lui ha vinto per te tu sei già un vincitore per questo che non te lo devi sentire è già storia che tu sei più che vincitore in Cristo Gesù allora perché non lo dimostri perché non ti innervosisci con il diavolo con le situazioni della vita perché ti paralizzano perché non affronti i problemi e le difficoltà quando l'unzione di Dio è reale e viva su di te il verso 11 quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo rimasero sgomentati ed ebbero grande paura tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono davanti a lui presi da grande paura se vuoi vedere Dio nella tua vita devi prendere a calci la paura non ti devi far guidare dalle emozioni non ti devi far guidare da quello che senti né da quello che vedi ti devi far guidare solo dalla parola di Dio che cosa dice la parola di Dio perché il diavolo è come un incantatore ti fa tenere gli occhi là sulla mano ti incanta ti incanta ti paralizza e se tu non conosci Dio se tu non conosci che lo spirito di Dio è su di te come farai come farai se tu non hai un' intimità con Dio come farai chi ti salverà chi ti dirà che sei un campione chi ti dirà che tuo padre è dietro di te è avanti a te sul lato è sulla tua destra è sulla sinistra è dentro di te chi ti dirà che lui ha vinto per te chi te lo dirà se tu non hai un' intimità con Dio come farai a trionfare nella vita se tu non sai che qualsiasi cosa farai tu riuscirai tu prospererai e se non prendi le promesse di Dio per fede ridendo a Golia che è davanti a te come farai ma c'era un ragazzo lì capitato non per caso per fare una commissione ai genitori c'era un ragazzo di nome Davide che aveva circa 16 anni era animato non dalla paura ma dal coraggio trasmesso dell'intimità col padre lui era giovane era per i fatti suoi lo chiamavano tutti il pastorello non era lì fra i primi dell'esercito di Dio perché era troppo giovane forse troppo debole non aveva la forza per vincere il Golia nel naturale ma aveva quell'intimità con Dio che davanti a Golia lui era una montagna capite quando tu sei davanti a Dio tu vedi la vita in un'altra prospettiva i giganti li vedi moscerini le montagne li vedi come sassolini le difficoltà te li mangi a colazione per merenda i problemi diventano un gioco per te un'occasione per far vedere per far vedere al problema quanto Dio è forte con te le paure fuggiranno da te dallo spavento intimità con Dio vuoi vincere devi arrenditi a Dio arrenditi a Dio arrenditi ai suoi piedi perché sennò passeranno 40 anni a fare la conta chi andrà a fare la conta anche Saul stesso era lì sotto al melograno aspettando che Dio gli parlava tu devi venire qui in chiesa ma voglio dirti una cosa vuoi essere un uomo e una donna potente di Dio devi avere la tua intimità con Dio costo quello che costa tu devi prenderti il tempo con Dio devi trascinare la tua vita ai piedi del Signore non mi interessa se non ti va non interessa se non te lo senti se il cane abbaia se il telefono squilla spacca il telefono butta il televisore dal barcone ma se vuoi vincere devi stare ai piedi del Signore perché nel momento che deciderai di farlo il cane abbaierà il telefono squillirà Netflix manderà il film migliore dell'anno perché il diavolo lo sa che se tu vai là lui ha perso con te e tu inizierai a vincere a trionfare a conquistare devi avere la tua intimità con Dio se no stiamo giocando qui stiamo giocando e io ti dico che non è facile devi trascinarti obbligarti devi sacrificarti devi comandare alla tua carne di andare lì perché lo spirito è contrario alla carne e la carne è contraria allo spirito e se non fai esaltare e alzare la voce di più del tuo spirito sulla carne la carne vincerà e ti tratterrà lì ti tratterrà lì nella fossa vuoi vincere devi andare lì io ti posso raccontare i sette passi per prosperare otto passi per conquistare una vetta ma se non vai lì se non stai lì ogni giorno alla presenza di Dio non arriverai da nessuna parte perché alla prima ventata tu cadrai e rimarrai là capite ti posso raccontare la più bella predica ma se tu non vai lì alla sua presenza e Davide amava stare lì lui aveva il suo strumentino lì e quando pascolava quelle pecore lui stava lì con Gesù non interessa quello che tu fai devi solo stare con lui non interessa se hai la giacca la cravatta il cappello o gli anelli come gli come i porto io l'importante è che tu stai lì alla presenza di Dio e dici signore potevo stare altrove ma voglio stare con te voglio conoscerti ho fame di te come quella foto questa immagine wow tu prendi lo spirito santo e stai con lui mia figlia Naomi voglio stare con te e papino sto qui con te stavo davanti al televisore e sto qui no papà io voglio stare con te voglio voglio stare vicino a te voglio che tu e io stiamo insieme parliamo insieme non essere distratto tu puoi stare qui ma non essere qui non importa quello che tu senti credi che Dio è con te qui farà cose straordinarie Davide verso 26 Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicino disse che si farà dunque a quell'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele è questo filisteo questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente lui ha già pensato ora mi diverterò un po' ora gli farò vedere qui questi mi prendono per il pastorello ed è vero quello che è con me chi è con me è più forte è più forte chi è questo incirconciso lui vedeva un'opportunità wow nelle difficoltà che cosa vedi tu il terrore perché quelle migliaia di persone erano terrorizzate e il pastore questa mattina ha parlato che i suoi fratelli nell'udire queste parole lo hanno insultato lo hanno insultato dicono che prepotente questo chi si crede di essere perché succederà questo quando tu hai la fede aspettati di tutto insulti che non vali niente ma chi ha l'unzione di Dio sulla sua vita vola in una dimensione in cui le critiche scivolano davanti a te talmente l'olio di Dio che è sulla tua vita che scivola ogni cosa quando hai l'unzione di Dio non si attacca nulla quando sei posizionato nella fede non ti trattiene niente Dio mi disse mi ha dato una parola tipo 20 anni fa che io non l'ho mai capita dice io ti do la mente come un diamante impenetrabile Dio ti parla dal di dentro e ti innalza ti rilascia il carattere ma ciò che viene dal di fuori Dio farà sì che la tua mente diventa come un diamante impenetrabile non mi fai niente capite il problema lo fai a pezzettini e lo risolvi pezzettino per pezzettino non devi fuggire davanti al problema lo devi spezzettare fagli vedere capite alleluia nonostante i fratelli più grandi verso di lui l'allunzione ti fa volare al di là il pezzetto dal 32 Davide disse a Saul nessuno si perde d'animo a motivo di costoi e vedete come sembra prepotente però ma la fede parla così ricordati questo e la scienza lo dice che quello che tu pensi è quello che tu sei quello che circola nella tua mente sta cibando il tuo sub inconscio che dà comandi a tutto il tuo corpo di diventare quella persona che tu hai pensato e nel momento che tu diventi quella persona che tu hai pensato tu ti muovi in conseguenza e tu sei esattamente quello che tu hai pensato l'essere umano è stato creato in questo modo quello che tu pensi attiva un meccanismo nel tuo corpo che dà ordini per diventare quello che tu stai pensando per questo la parola di Dio dice il debole dica son forte perché se dice che è forte il malato dice che è guarito il corpo stesso è stato creato all'udire questo comando il corpo comanda tutto il corpo che deve essere guarito e i scienziati dicono che succede qualcosa nell'atmosfera intorno a te che ascolta quel pensiero che ascolta quelle parole e corrono tutte intorno a te per realizzare quella parola ed è per questo che i demoni vogliono un corpo perché conoscono il potere del tuo corpo perché Dio ti ha creato come Lui è una persona che comanda che decreda ordini e la tua fede si basa su questo sul decretare ordini per la tua vita e non sei tu potente e come sei stato creato è il tuo corpo che è potente quindi tu sei esattamente quello che tu stai pensando e voglio dirti questo mettiti bene in testa una cosa che tu devi cambiare il tuo modo di pensare e il tuo modo di parlare perché questo mondo ha bisogno di gente che si ribella al sistema che si ribella a tutte quelle voci che vengono captate che vengono trasmesse da ogni parte devono andare contro queste cose qui e Davide era un uomo così che rideva davanti al sistema ah c'è la crisi ti faccio vedere io crisi quello che succede ora le aziende chiudono ti faccio vedere io quello che succede alle aziende dei figli di Dio ti faccio vedere io ai miei figli se non profetizzeranno fin da giovani se non faranno segni e prodici fin da bambini se non lo dici tu chi lo dice ti faccio vedere io Colia chi comanda qua e quando il gigante Colia provò ad intimorire o a paralizzare Davide con la paura la reazione che Davide ha avuta alle minacce è fondamentale per ora oggi e io vi voglio dimostrare come Davide ha risposto a Golia ed è quello che dobbiamo fare noi il versetto 42 fino al 50 so che sono diversi versi però è importante leggerli quando il filisteo vide Davide lo disprezzò perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto il filisteo disse a Davide sono forse un cane che tu vieni contro di me con un bastone e maledisse Davide in nome dei suoi dèi poi il filisteo disse a Davide vieni qua e ti darò la tua carne impasta agli uccelli del cielo e la bestia dei campi allora Davide risposa al filisteo state attenti qua tu vieni contro di me con la spada con la lancia con il giavellotto ma io vengo verso di te nel nome degli Dio degli eserciti Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato oggi non dire un giorno Dio mi guarirà non dire un giorno Dio mi troverà un lavoro un giorno Dio toccherà i miei figli oggi è il giorno della salvezza oggi è il giorno della fede non è domani e oggi non dire ah nel passato Dio ha fatto cose grandi di oggi oggi è il giorno oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò non so come lo farò una cosa so so che lo farò sono sicuro che qualcosa di straordinario sta per succedere alla mia vita alla mia casa non so come farà so che lo farà so che Dio farà cose straordinarie con me lo so perché Dio è con me io parlo con Lui Lui parla con me ti darà nelle mie mani io ti abbatterò ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri i cadaveri non solo te tutto il povero darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei filistei impasta agli uccelli del cielo e alle bestie della terra così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spade né di lance per salvare Dio lo farà per te e non necessariamente tu devi essere bravo in quello che tu fai affinché Lui lo faccia Lui ti incoraggerà si bravo in quello che fai per divertirti ma non necessariamente perché Lui lo farà per te né di spada né di lancia per salvare perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani dillo alla tua vita io sono un uomo benedetto non mi interessa come tu ti senti di a te stesso io sono un uomo una donna benedetta da Dio te lo devi ripetere devi ingannare il subinconscio perché il subinconscio si può ingannare la realtà tu la puoi ingannare capite quando tu ti vedi un film che fa paura il subinconscio non riconosce che il film è un film non riconosce se è vero o se è falso lui crea la paura in te perché la paura è un sentimento che Dio ha messo nei nostri cuori il problema è quando il diavolo prende quella paura per per amplificarla per paralizzarti e tu puoi ingannare il subinconscio e dirgli che tu sei un uomo benedetto che tu sei un uomo guarito sei un uomo libero sei un uomo che qualsiasi cosa tu stai facendo tu puoi riuscire nella vita e la tua vita stessa comanderà a ogni cosa intorno a te tu vedrai che le porte si apriranno appena il filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide vedete più la pressione forte su di te più devi essere consapevole che ti devi muovere per fede non sto dicendo che è facile non sto dicendo che sarà una passeggiata è una scelta la fede non è che deve crescere non è così la fede non c'è una fede grande e una fede piccola ti dico come funziona la fede la fede è come a un fusibile è un conduttore è il conduttore della potenza di Dio per questo Gesù ha detto se avete la fede quanto a un granello di senape voi potete dire a questo monte spostati e non c'è bisogno di una grande fede c'è bisogno che la tua fede si accenda si collega alla presenza di Dio deve fare da conduttore dal cielo a sulla terra e tu hai la fede tu hai la fede di Dio concludiamo appena il filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il filisteo si mise la mano nella sacchetta prese una pietra e la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte e la pietra gli si conficcò nella fronte e gli cadde con la faccia a terra così Davide con una fionda e una pietra vinse il filisteo lo colpì lo uccise senza avere spada in mano e ora c'è un'immagine qua che è un po' brutta ma parla di molte persone un'immagine con una gabbia in testa e delle catene sia negli occhi che sulle labbra e sembra un'immagine forte ma nello spirito è così per tante persone hanno la loro mente ormai così limitata che non sognano più che non sperano più e i loro occhi che non vedono più e la loro bocca che non parla più e io voglio dirti questo non sto parlando di te sto parlando di persone lì fuori che Dio vuole mandare te per strappare per strappare quelle gabbie e quelle catene perché tu sei libero già tu sei benedetto già quell'immagine non è per te quella immagine di quelle persone che il diavolo sta tenendo lì paralizzate ferme e Dio ha fiducia in te ha fiducia in te perché tu hai il potere soprannaturale per distruggere ogni fortezza per distruggere ogni catena grazie a tutti Grazie a tutti